Ti auguro una buona giornata con questo messaggio. Visualizza l'abbondanza in tutte le sue forme. La sorgente ti ha dotato di un potere spirituale così potente che qualsiasi cosa visualizzi prima o poi diventa reale. Continua a concentrarti su ciò che è bello, positivo, sano e pieno di gioia. E accadrà. Questa carta ti ricorda che qualsiasi cosa visualizzi si trasformerà in esperienza concreta. Gli angeli guidano e visualizzano i desideri, non le paure. Hai ricevuto questa carta come aiuto a modificare le tue visioni, compresi i pensieri e i sentimenti. Immagini sempre i peggiori scenari possibili. L'ego mette in atto questa strategia per cercare di prevedere e controllare il futuro. Se però visualizzi il peggio, non facciamo altro che chiamare queste esperienze nella nostra vita. Tutto ciò che visualizzi è contenuto in una forma pensiero di energia attorno a te. Gli angeli, i veggenti e i sensitivi riescono a scorgere le forme pensiero, perché sono masse di energia con le sembianze di ciò a cui pensi. Per esempio, se stai visualizzando una nuova casa sospesa attorno alle tue spalle e alla tua testa, ci sarà la massa di energia nella forma pensiero di un'abitazione. I sensitivi sono in grado di affermare con precisione che stai manifestando una nuova casa perché percepiscono questa forma pensiero. Alla fine, tutte le forme pensiero si cristallizzano nella materia. La buona notizia è che puoi evitare il concretizzarsi di qualsiasi cosa nociva per la tua vita, togliendole il potere che le avevi attribuito. Evita quindi di reclamare per una certa situazione o di affermarne l'esistenza, a meno che si tratti di qualcosa di positivo. Quando visualizzi un desiderio, è utile averne una rappresentazione fisica. Può essere una fotografia ritagliata da un giornale, il modellino dell'auto dei tuoi sogni o persino una scultura d'argilla realizzata da te. Avere un'immagine oppure un oggetto simbolico può rendere la visualizzazione più reale, aumentandone così l'effetto. Una vision board è un luogo in cui tenere le immagini e le parole che ti aiutano a visualizzare i tuoi desideri. Può essere una semplice bacheca di sughero oppure un grande cartoncino su cui collocare le foto e le frasi ispiratrici ritagliate dai giornali. Questo è il messaggio di oggi per augurarvi una buona giornata. Grazie. Grazie.